Ah, Giuliano, carissimo Giuliano, cosa vorresti dire con il non ho preparato una mod review? Perché ogni settimana ultimamente devi darmi dei problemi? Hai un solo compito, quello di trovare e organizzare una mod review, perché non lo fai mai? Senti Eren, io non so, tu per chi mi abbia preso, ma io non sono mica il tuo schiavetto, Wolf. Sì, ma sei il mio cane, quindi io in qualche modo dovrei avere del potere su di te, no? Posso almeno chiederti una mano. E come faccio a darti una mano, Wolf? La strappo a qualche zombie e te la porto? Ti ricordo che io ho delle zampe, non la mano, Wolf. E allora dammi una zampa, basta che fai qualcosa, Giuliano. Io non ti darò nessuna zampa, non sono uno di quei cani che gli dà il biscottino, allora fanno i bravi e ti danno la zampa. Se voglio un biscotto, ne ho un paio negli time frame qui dietro. E tra l'altro il cioccolato fa pure male ai cani, quindi non li voglio proprio. Ma non è in quel senso dammi una zampa, ma chi se ne frega? E allora che cosa ti aspetti, eh? Che diventi un cane servizievole che ti lecco la mano, Wolf? Ma no, ti prego, con quella lingua tu ti ci fai il bidet, ma che schifo, ma stammi lontano un chilometro. Guarda, io non avrei nessun problema a starti lo... Ehm, che cosa è stato, Wolf? Beh, te lo vorrei chiedere io, che cos'è? È un tuo scherzo, Giuliano, è abbastanza creepy questo suono. Ehm, non è un mio scherzo, Eren, Wolf. Ehm, Eren, forse dovresti girarti alla finestra, Wolf. Oh merda, era la sirena d'avvertimento. Mentre stavamo qui a litigare, abbiamo subito un'invasione di Creeper. Ehm, senti un po', Giuliano, ma... Ora che siamo scappati sul tetto, siamo sì al sicuro, ma... Come facciamo a liberarci di quei Creeper? Non ci permettono di uscire di casa, e se saltassi giù da qui, mi romperei le gambe. Giuliano, dove sei finito, scusa? Per mia fortuna, le mie gambe mi permettono di saltare fino alla casa di fianco, Wolf. Ma brutto codardo di un cane, ma vieni qui ad aiutarmi! Assolutamente no, Wolf. Me ne starò qui al sicuro, e comunque ti ho già aiutato abbastanza. E non ho capito male, lì in quel cumulo di polvere c'è una chest con degli armamenti di riserva. Wolf. Dovrebbero aiutarti a difendere la base. Wolf. Ah, ok, ci penso io come al solito. Vediamo un po' che si può fare. Allora ragazzi, ho letto al volo le istruzioni. E a quanto pare, in questa chest, qualcuno, forse i precedenti proprietari o il sorvegliante di questo edificio, ha lasciato degli oggetti che fanno parte della mod delle torrette difensive. E guarda caso questa cosa ci può tornare molto utile. Aperta parentesi, la mod delle torrette difensive si chiama Open Modular Torrets, ed è per 1.12.2. Adesso andiamo a recensire. Trovate in descrizione il link se vi interessa, ed aggiungo un bel po' di cose. Ma visto che è una mod tecnica, e le mod tecniche mi fanno venire un gran prurito, perché non mi piacciono troppo, i crafting li lascio a voi. Installatevi la Just Enough Items, che vi permette di vedere in automatico tutti i crafting. Quindi non c'è bisogno di elencarli. E noi andremo a vedere alcune di queste torrette, perché mostrarle tutte in un video sarebbe davvero complicato. Quindi ne vediamo alcune e vediamo insieme come funzionano. Ok, che cosa abbiamo qui? Allora, abbiamo innanzitutto questo blocco. Si chiama Torret Base. Dovrebbe essere il blocco di base, che permette di piazzare queste quattro torrette che andremo a provare. E qui abbiamo anche i proiettili, come vedete, e i pannelli solari, che sono molto utili. Ci permetterà appunto di piazzarle qui sul nostro tetto. Ora, questo blocco si chiama Tier 5. Quindi ne esistono cinque livelli. Questo è il Tier massimo. Ovviamente è il più costoso anche da craftare. Ho preso questo per essere comodo e andare a provare direttamente le torrette. Ma ogni torretta richiede come requisito un Tier particolare come base. Quindi questa ha il 5, 5, 3 per dire. E questa qui 2, che è quindi la più semplice da ottenere. Infatti inizieremo da questa. Noi andiamo comunque a piazzare quattro basi, tutte quante, di Tier 5. Perché non mi permette di metterlo qui? Boh, devo lasciare un certo spazio a quanto pare. Quindi facciamo così. E questo lo possiamo mettere via. Ora, che torrette ho preso? Ho preso queste quattro torrette da provare. La Railgun, ragazzi, che spara un intensissimo raggio che sciotta praticamente qualsiasi cosa. Perché toglie 12,5 cuori. Non sciotta qualsiasi cosa, ma ragazzi è molto potente. E poi queste armi, una volta attivate, caricate, lavorano da sole in autonomia. E ti difendono la base anche se ti invadono dei Creeper. E non serve che si accumulino così tanti Creeper alle porte. Perché se ne accorgono prima e fanno il lavoro al posto tuo, uccidono i mob al posto tuo. Poi c'è la torretta laser, che quindi è più interessante perché forse spara più colpi, ma toglie solamente un cuore a colpo. Quindi dopo comunque andiamo a vederla. Quella che lancia le granate, che però non fanno esplodere nulla. Quindi in un certo senso può aiutarci. E la Gun Turret, che spara una raffica di colpi. Quindi per montarle dobbiamo andare praticamente vicino a questa base. Le piazziamo in modo che siano attaccate e come vedete riusciamo a piazzarle in maniera adiacente. E da qui saranno in grado di coprire questa area e di sparare ai vari Creeper. Quindi queste qui adesso le possiamo lasciare giù. Aprendo la torretta possiamo accedere al suo inventario. Eccoci qui. In realtà devo cliccare, come vedete, sul quadrato, sulla base su cui è messa. Quindi abbiamo visto i vari dettagli della torretta. Analizziamo questo nuovo inventario che può sembrare complicato, ma non lo è. Innanzitutto abbiamo dei tasti. Drop Turrets. Ci permette di droppare le torrette in automatico, quindi si staccano dalla base. Questo ci permette invece di droppare la base, come c'è scritto, Drop Base. Questo ci permette di configurare, per dire, attacca i mob, attacca i neutrali e attacca i player. In questo caso non ci sono player, quindi non ci serve. Usciamo un attimo e rientriamo. E possiamo anche decidere se targettare un solo mob oppure più di un mob. Semplicemente. Io direi per ora di mettere multi. Ora, cosa possiamo fare? Gli upgrade ci permettono di migliorare la nostra torretta, mentre gli addons ci permettono di fare cose. Un addon molto interessante è quello dei pannelli solari. I pannelli solari si installeranno proprio visivamente alla torretta. Come vi faccio vedere, tra un attimo li mettiamo qui. E ci permettono anche di caricare la torretta di energia elettrica. Ovviamente funzionano solo col sole, quindi di giorno. Ora, come vedete, la torretta si è attivata. Ha un pannello solare sopra di sé e sta puntando quel creeper laggiù. Ma ci manca una cosa, ovviamente. Questa torretta, infatti, per funzionare ha bisogno anche di proiettili. E la gun turret, come possiamo leggere da qui, spara bullet. Quindi proiettili normali, vale a dire questi. Una volta che li avrò caricati qui dentro, inizierà a sparare a raffica. 64 proiettili. Siete pronti a vedere in azione questa torretta? E allora, mettiamo i proiettili. Appena li droppo, inizierà a sparare. Vai! Eccoci qui, ragazzi. Guardate, sta colpendo il primo creeper. Non toglie tantissimo. In realtà, vedete, abbiamo messo target multi. Quindi sta targettando più di un creeper alla volta. Se volessimo mettere single, come vedete, andrà a targettare un creeper unico. Lo uccide. E poi passa al prossimo obiettivo. Ma ancora non ci siamo. Perché ci sono davvero troppi creeper. E questa cosa può essere utile a difenderti contro un paio di mob. Quattro mob. Cinque mob che ti attaccano. Forse anche dieci. Ma ad un certo punto finisce i proiettili. E non ha fatto così tanto male. Proviamo qualcosa di più incisivo. Proviamo direttamente la railgun. Allora, la railgun è un pochino più complicata. Perché? Perché, ragazzi, questo oggeggio spara un colpo, ragazzi, quando raggiunge 25.000 RF. Che sono praticamente l'energia elettrica che si carica. Qui per dire abbiamo caricato 13.000. Quindi ce ne vuole un po' per caricare tutta questa energia. E sparerà un unico colpo. Quindi noi adesso andiamo a caricare i pannelli solari. Come vedete. Andiamo a inserire i suoi proiettili che sono i ferromagnetic slag. Ogni torretta può avere differenti proiettili. Quindi bisogna mettere quelli giusti. Craftare e inserirli sempre qui dentro. Fino a nove slot di proiettili. Ora, si sta caricando. Quando arriverà 25.000, tirerà un colpo fortissimo. Ma dobbiamo avere pazienza ed aspettare. Potrei mettere target multiplo, ma tanto colpisce un creeper alla volta. Quindi aspettiamo. Intanto, ragazzi, magari carichiamo anche le altre. Così avremo già dell'energia per sparare. Questa qui spara... Aspetta, la railgain cosa spara? Non ha proiettili. Quindi per ora non carichiamola. Mentre questa qui è quella delle granate, giusto? Sei tu? Quella delle granate? Credo proprio di sì. Ti serviranno questi proiettili. Li mettiamo dopo. Tu a quanto sei ora? Vediamo un po'. 15.000. Ancora 10.000. Poi sparerà un colpo potentissimo, ragazzi. Oh mio Dio, ragazzi. Mi ha fatto prendere un infarto. È stato così improvviso e potente il suono. Ma quel creeper lo ha devastato. Lo ha shottato. Sì, lo ha decisamente shottato. Ok, quindi questa si deve caricare di altri 25.000 prima di sparare. È dannatamente OP questa roba. Però non credo ci aiuterà, perché ci sono davvero troppi creeper. Quindi, sapete che c'è? Proviamo questa qui, laser. Perché questa qui, in teoria, andiamo a vedere quanta energia utilizza per sparare. Li servono 10.000 RF. E toglie un solo cuore. Beh, in realtà è davvero poco. Ma infatti ogni tanto sentivo sparare, perché in qualche modo gli è rimasto installato la don del pannello solare, ok? Quindi quando arriva a 10.000 questa spara, ma toglie solamente uno di danno. È un po' pochino, cara signora Torretta. Non so quanto ci possa servire. Ma infatti sai che c'è? Non mi piaci per niente. Quindi io metterei quest'altra Torretta che lancia dei missili. E quindi andiamo subito... Ah, è già installata qui. Quindi si sta già caricando e dopo la andiamo a provare. Intanto questa qui... Sei caricata? Direi di sì, ragazzi. Guardate, si può caricare fino a 10.000.000 RF. Noi siamo a 33.000. La sto caricando da prima, quindi... Ci vuole davvero un sacco a caricarla del tutto, ma se è a pieno regime vuol dire che sparerà davvero un sacco. E di certo non ha bisogno di sparare sempre, quindi ne ha di tempo di caricarsi. Ora, mettiamoli le granate. Mettiamo anche target multi, direi, e vediamo cosa succede. Vai, ragazzi. Guardate. Inizia a sparare delle granate. Ottimo. Sembra l'arma giusta, perché colpisce. Oh mio Dio, un sacco di creeper alla volta. Ok, quest'arma è potentissima, ragazzi. Guardate, sta facendo una strage di creeper. Forse fin troppo efficiente. Io direi di aspettare un attimino, perché volevo provare quest'altra che richiede 5.000 per sparare. Quindi, quanto ti sei caricata? Quasi 15.000. Quindi abbiamo tre razzi da sparare. Siamo pronti? Vai, ragazzi. Eccoli. Mamma mia, anche qua si fanno danno ad aria. Beh, io direi di ricaricare le granate qui dentro. Abbiamo trovato l'arma adatta contro le orde. Guardate quei creeper. Ne colpisce uno laggiù e colpisce praticamente in un'area più o meno di 7x7 blocchi. È abbastanza bestiale. E ogni tanto lascia anche tipo dei proiettili droppati. Non so se avete notato. Ok, sembrerebbe che abbiamo un problema, perché non riesce a colpire per dire quelli in quell'angolo. Però le altre torrette in teoria sono in grado di farlo. Quindi sapete che c'è. Forse conviene montarle tutte e lasciare che facciano il loro dovere. E forse entro la fine del giorno avremo finito. Ok, ragazzi. È calata la notte. Giuliano forse è già andato a dormire e a quanto pare i creeper se ne sono andati. Le torrette hanno fatto un attimo lavoro. Guardate quanto drop che c'è qui sotto. Ovviamente questa è stata un'improvvisata. Immaginate costruire una base o un bunker e caricare il perimetro di queste torrette automatiche. Non avrete mai più problemi di creeper dietro una porta appena uscite o di mob che vengono a intasarvi la base. Vorrei tantissimo averle nella mia vanilla. Ogni tanto mi entrano degli zombie nella base e sono davvero fastidiosi. Comunque, ragazzi. Spero che questa mod review vi sia piaciuta. Non sono un tipo per mod tecniche ma questa mod che tra l'altro mi ha consigliato Tano che ringrazio tra parentesi mi è piaciuta abbastanza perché pur essendo molto tecnica aggiunge delle armi automatiche sono davvero una figata. Sarebbe davvero figo averle in Minecraft magari non delle torrette che sparano razzi perché non c'entrerebbero poco ma comunque una sorta di guardia automatica che non sia uno snow golem o un iron golem che in despona sarebbe molto molto figa come cosa e anche gradita. Comunque, spero che vi sia piaciuta la mod review se è così lasciate un like e consigliatemi nei commenti la prossima mod da fare. Noi ci vediamo settimana prossima con una nuova mod un saluto da Iron Blaze ciao a tutti. Outro